La gara di solidarietà attraverso lo sport ha dato grandi risultati, giornate di divertimento e soprattutto una bella cifra a favore dell'AIC. Assolutamente sì, aiutare lo sport e la ricerca è una cosa fondamentale, rientra nei programmi curricolari, facciamo prevenzione, informazione e naturalmente la scuola vicina alla ricerca è una cosa estremamente importante e delicata in un momento particolare come lo sviluppo delle tecnologie innovative per combattere questa malattia. Tutte le scuole del territorio hanno partecipato sia alla parte sportiva che è iniziata già da qualche settimana e soprattutto poi alla raccolta? Assolutamente sì, c'è un grande gruppo, una grande squadra che su base volontaria si adopera per raccogliere i fondi, naturalmente si può fare sempre di più, possiamo sempre ottimizzare le risorse a favore della ricerca, noi ci impegniamo perché il torneo comporta l'organizzazione, sacrifici, ci alleniamo tutto l'anno insieme ai ragazzi, siamo vicini ai ragazzi e quindi devo ringraziare di cuore tutti i docenti che praticamente si adoperano per vivere con me questa passione, questa voglia di far emergere il territorio e tutte le scuole indistintamente. E poi insomma coinvolgere i ragazzi quando si parla di ricerca è sempre importante. Assolutamente sì, loro rappresentano il futuro, partire dalla consapevolezza dell'importanza della donazione, della solidarietà. Parliamo oggi di cittadinanza attiva, dobbiamo educarli a rispettare le regole, rispettare i ruoli, a condividere il patrimonio territoriale, a fare delle scuole veramente dei grandi protagonisti per il futuro. Grazie a tutti!